In una partita tirata, combattuta e molto nervosa, dove lo scontro fisico non si è fatto desiderare, a emergere è il piccolo Santino, che realizza due gol fondamentali. Le sue reti valgono la sicurezza e rilanciano l'Olympus, a caccia del primo posto. Super Bomber! Se il Fuzz al Palestrina può festeggiare l'impresa di aver battuto in casa la corazzata Citi Eur, il merito è soprattutto suo. L'estremo difensore si rende protagonista in più di un'occasione, con interventi da fuori classe. Grazie alle sue parate, tiene a bada la foga dei padroni di casa, ragno!